Essere dodici, Dio perdonaci, 45, ah no, bravissima, figa per me, 90, laura non mi tanta, 67, ho fatto tombola, grazie a te, e anche voi che ci state guardando, se vi piacciono i numeri, ricordate che l'11 agosto alla madre, alle ore 21 e 30, ci sarà una tombola, non mancate, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.